Quando Gesù vide questa madre in lacrime, essa entrò nel suo cuore. Il Signor si fa vicino per incontrare ognuno di noi, per portare e offrire la sua potente parola consolatrice. Non piangere. Ognuno di noi, alzati. Dio ci vuole in piedi. La parola potente di Gesù può farci rialzare e operare anche in noi il passaggio dalla morte alla vita. La sua parola ci fa rivivere, dona speranza, rinfranca i cuori stanchi, apre a una visione del mondo e della vita che va oltre la sofferenza alla morte.